Le bandiere a lutto e le candele sono i segni con cui il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano vuole ricordare le vittime di un anno di pandemia. In questo lungo periodo di pandemia abbiamo visto tanta solidarietà ma anche rabbia perché questo virus ha cambiato le nostre vite. Ma non dobbiamo dimenticare che molte persone la vita l'hanno persa. Più di mille sono coloro che sono morti in un anno per via del coronavirus nella nostra provincia. Spesso senza un ultimo saluto, anziani, giovani, a volte anche persone che si adoperavano contro questa malattia. Vogliamo dedicare questa giornata alla loro memoria esprimendo anche vicinanza a tutti coloro che hanno perso una persona cara. Grazie a tutti.